È un grande momento questo perché si sta per ufficializzare finalmente dopo tante parole, tante illazioni, l'arrivo effettivamente del Giro d'Italia a Biella nella tappa di Europa. Io ho sempre avuto grande fiducia perché ho visto che l'importante ditta, che poi la lauretana è uno sponsor tra i principali del Giro, la lauretana è di Biella, quindi un ringraziamento a lei perché sicuramente ha dato un contributo per far arrivare questa importantissima corsa nel nostro territorio. Sarà una promozione enorme perché ogni anno migliorano ancora i servizi, le immagini del territorio le aumentano e tutta l'Italia e non solo l'Italia perché è una corsa che ha un risvolto internazionale, vedrà le bellezze del Biellese, Europa ma non solo, l'Oasis Zegna e tutto il resto del Biellese che è veramente un gioiello ed è una terra che è diventata accogliente e pronta per essere ricettiva anche turisticamente.